Le foglie di fico sono spesse usate per coprire le nudità e le parti oscene dei dipinti. È avvenuto anche agli affreschi di Masaccio, la cacciata del paradiso terrestre, dove delle foglie di fico coprono le figure di Adamo e di Eva, rimosse solamente nel restauro del 1990. La cacciata dei progenitori è uno degli affreschi della Cappella Brancacci. Essi furono la scuola del mondo e furono ampiamente copiati. La cacciata, ad esempio, fu copiata da Jacopo della Quercia, da Michelangelo e anche da Raffaello. La Cappella Brancacci è uno dei più elevati esempi dell'arte del Rinascimento. Essa si trova all'interno della Chiesa del Carmine a Firenze. Ad essa collaborarono grandi artisti come Masolino e Masaccio, i quali ricevettero la commissione dal ricco mercante di seta Felice Brancacci. Masolino avviò i lavori nel 1424, ma li interruppe nel 1425, quando partì per l'Ungheria. Rimase allora a dirigere i lavori il solo Masaccio. Però nel 1428 egli si recherà a Roma e lì morirà a soli 27 anni. Oggi gli affreschi di Masolino sono in netta minoranza rispetto a quelli di Masaccio, ma non era così nell'antico, poiché essi occupavano anche tutta la volta crociera e le lunette superiori. Chiudeva probabilmente il ciclo sulle storie della vita di San Pietro, il protettore della famiglia Brancacci, il rilievo sull'altare con la consegna delle chiavi di Donatello, oggi al Vittoria ed Albert Museum, scena fondamentale per la chiusura delle storie e del discorso sull'autorità di Pietro nella chiesa. Masolino e Masaccio lavorarono separatamente a scene diverse, pianificando accuratamente i loro interventi, in modo da poter operare contemporaneamente. Gli affreschi rimasero incompiuti anche per l'esilio della famiglia Brancacci, a causa del suo schierarsi con il partito avverso a Cosimo de' Medici. Quando l'esilio del 1436 divenne poi perenne nel 1458, vennero svuotati e smantellati tutti i ritratti e i riferimenti alla casata, poiché era inammissibile per i medici, per il papato stesso e per i carmelitani, avere un ciclo pittorico legato a uno degli esponenti di questa famiglia. San Pietro era infatti il primo papa. La cappella venne allora ridedicata alla Madonna del Popolo e vi fu posto la tavola della Madonna col bambino, risalente al 1268, anno di fondazione della chiesa. Ad essa fu addossato un altare e proprio la rimozione di questo ha permesso i riferimenti per i restauri, visionando gli affreschi che vi stavano dietro. Gli affreschi della cappella Brancacci furono terminati solo nel 1480, quando vennero riammessi a Firenze gli esponenti della famiglia Brancacci. Fu chiamato allora Filippino Lippi, il cui stile è ben riconoscibile rispetto agli affreschi di Masolino e Masaccio, soprattutto perché il suo stile è legato a un forte chiaroscuro, è una grande linea di contorno tipica dello stile intellettualistico dell'epoca di Lorenzo il Magnifico e diametralmente opposto alle stesure veloci e brevi e di getto della tecnica di Masaccio. Il soggetto degli affreschi è legato alle storie della salvezza, partendo dal peccato originale fino ad arrivare al primo papa Pietro. Pietro apostolo e primo papa era il protettore di Pietro Brancacci, il fondatore della cappella. Celebrando la figura di Pietro e del papato si era in linea con la politica filo papale legata a Martino V che aveva da poco riportato anche la sede a Roma dopo il trasferimento a Vignone durante lo scisma d'Occidente. Le fonti per questa storia sono la Genesi, i Vangeli, gli Atti dell'Apostoli e la leggenda aura di Jacopo d'Avarazze. La figura di Pietro è sempre riconoscibile negli affreschi, infatti egli indossa un vestito verde scuro, un mantello arancione e poi ha la barba e i capelli bianchi. La presenza delle scene della Genesi si collega al tema della salvezza dell'umanità operata dal Signore. Il ciclo inizia con la tentazione di Adamo ed Eva di Masolino, posto in posizione speculare a quella di Masaccio con la cacciata dal paradiso terrestre. Esse mostrano il momento in cui l'uomo ruppe la sua amicizia con Dio che verrà poi riconciliata da Cristo con la mediazione di San Pietro. Eva sta per addentrare il frutto proibito che il serpente le ha appena offerto dall'albero. La scena è aulica, impostata nei gesti, legata al clima cortese del tardo gotico. La luce è morbida e avvolgente e fa risaltare la sensuale plasticità delle figure, lasciandole però come sospese nello spazio. Adamo aderisce ad un canone di bellezza classica. Con Masaccio invece scompare la compostezza dei personaggi, i quali sono ritratti in una cupa di sperazione, con gesti eloquenti, mentre escono dalla porta del paradiso. Adamo si copre il volto con le mani per lo sconforto e il suo senso di colpa. Eva nasconde le nudità con vergogna e piange, urlando, ed in alto l'angelo della giustizia con la spada indica loro con durezza la via. Le figure sono saldamente inserite sul terreno, su cui si proiettano le ombre. Adamo, curvo, con la testa piegata, si incammina nell'arido deserto del mondo. I corpi sono volutamente massicci, sgraziati, realistici, con alcuni errori, come la caviglia di Adamo, che accrescono l'immediatezza espressiva. Tra i dettagli di grande spessore i suoi capelli appiccicaticci. Sulla terra si va infatti incontro alla fatica e alla sporcizia. La posa di Eva è una citazione dell'antica Venere, filtrata anche da Giovanni Pisano nella figura della prudenza del pulpito del Duomo di Pisa. Il paradiso di Masolino, prima della caduta, è idilliaco, mentre quello di Masaccio è irrimediabilmente perduto. Vi aspetto alla prossima puntata.